Il bambino ha 13 anni, è suo fratello e ha subito un dolore immenso. Chi lo conosce sto nano alto? E tantomeno suo padre che voi sostenete essere pure il mio. Se hai intenzione di rompere le palle per tutto il viaggio, ti porto in collegio. Una cosa molto importante, fondamentale, di che squadra sei? Sono della Juventus. È tutto bene. Devo dirti una cosa. Io faccio meno il bambino e il tuo fa il condebino. C'è tempo. Questa sera alle 21.20, Rai 3.